Se usi WordPress non stai un vero programmatore, non sai programmare se usi WordPress, devi utilizzare il codice binario 01 scritto con il scalpello e il martello, se no non stai programmare. No, a parte gli scherzi oggi rispondiamo un po' a quelli che dicono che se usi WordPress non stai un vero programmatore. Prima cosa vorrei dire, ragazzi, se consideriamo un vero programmatore, uno che scrive codice da zero e per fare un sito web nel 2024 mi deve scrivere da zero il database, progettare il database, scrivere tutte le chiamate PHP a mano, scrivere l'HTML, il cesto da mano, senza andare a fare nessun tipo di, diciamo, di escamotaggio, senza utilizzare nessun tipo di aiuto per scrivere codice in maniera più efficiente e per sviluppare siti web in modo efficiente, dico, ragazzi, che idee avete dei programmatori e soprattutto come fate a mangiare, perché se io per fare un sito web devo fare tutto da zero, ci metto 10 volte, 20 volte quello che ci metto oggi nel 2024 con WordPress, un tema custom e advanced custom field. Ok, quindi innanzitutto siete profittevoli, guadagnate, guadagnate probabilmente poco se ci mettete così tanto per fare un sito web. Seconda cosa, il 90% dei programmatori che conosco, chiedo anche a voi ragazzi, utilizza dei framework, utilizza delle basi di partenza già fatto, Django è un framework di partenza per Python per fare siti web, Laravel è un framework di partenza per PHP per fare applicativi web, poi Laravel è più granulare, devi costruire più cose da zero, sì, WordPress, WordPress no, WordPress ti permette, ha due anime, ti permette innanzitutto di fare siti web ormai senza codice, siti semplici, senza funzionalità e avanzati, ma se lo utilizzi come un framework, WordPress ti permette di andare a programmare e di essere un vero programmatore perché ti studi, ti crei un database con i custom post type, con advanced custom field e vai a crearti tutto il front end a mano fatto da te con il codice e creando temi custom in base a quello che hai bisogno. Quindi il 90% dei siti web aziendali, istituzionali, che vengono utilizzate le aziende per fare comunicazione, viene fatto con WordPress per questo, perché WordPress è flessibile, ha una base di partenza molto, diciamo, solida per pubblicare contenuti online, è il miglior, se non il più diffuso, è comunque il più diffuso, il migliore, qui c'è il solito dibattito, però è quello più utilizzato al mondo per pubblicare contenuti online, un motivo ci sarà, è semplice da utilizzare, è sensibile, ci sono i plugin open source, non costa niente, lo puoi praticamente andare a estendere, a modificare, customizzare come vuoi e ha una fetta di mercato enorme, 43% dei siti web è fatto con WordPress, quindi la domanda è enorme, perché non andare a utilizzare questo strumento che funziona bene, è gratuito, è sensibile e ci fa risparmiare un sacco di tempo nella programmazione e specializzarsi nella programmazione su WordPress, quindi questo è un punto fondamentale, logicamente per utilizzare WordPress bene e fare siti web professionali del valore di 5, 10, 15, 20, 100 mila euro, devi saperlo utilizzare, devi saper creare un tema custom, devi andare a creare un backend personalizzato con i giusti plugin senza utilizzare un plugin per qualsiasi cosa, devi riuscire a dare sicurezza, velocità, stabilità ad ogni aggiornamento ai tuoi clienti, come si fa a fare questa cosa qua? si fa avendo le skill giuste, se vuoi impararle dai un'occhiata ai miei percorsi, ci sono i link qui sotto in descrizione, ti facciamo in un mese e mezzo, ti facciamo già mettere online il tuo primo sito WordPress fatto bene, come Dio comanda, andando a vedere prima tutti i linguaggi di programmazione, perché mi raccomando, per fare siti web con WordPress customizzati, devi sapere i linguaggi di programmazione, ok? Non è che non li devi sapere, semplicemente vai a scrivere meno codice e lo vai a scrivere solo quando serve, vai a scrivere il codice quando dai valore aggiunto al progetto. Quindi ragazzi, mi raccomando, chi fa utilizzo di WordPress e lo utilizza come un framework è assolutamente un programmatore, perché sa andare a creare temi custom, sa andare a creare plugin per WordPress, sa che cos'è PHP, sa che cos'è un database, ogni volta andiamo a creare tutto da zero? No, perché? Perché siamo intelligenti, siamo nel 2024, vogliamo monetizzare meglio le nostre competenze, visto che il mercato chiede programmatori WordPress, noi andiamo a dare siti web WordPress customizzati, sicuri, veloci e fatti bene senza builder, andando a risolvere questa domanda e andando a realizzare siti web professionali in poco tempo. Quindi, WordPress ti permette di fare siti con funzionalità spaziali, gratte alla sua struttura e alla sua possibilità di essere esteso. WordPress ti permette di essere veloce, sicuro e molto professionale nel tipo di delivery di siti web che vai a fare, perché non utilizzarlo? I programmatori vecchio, non so, quelli che non vogliono abbracciare questa filosofia perché vogliono fare tutto da zero, va bene ragazzi, andate avanti a sviluppare così, ma ci metterete più tempo a realizzare siti web con una qualità minore della nostra. Fammi sapere cosa ne pensi nei commenti, ci vediamo presto, un abbraccio, ciao!